La partita è stata quella che è stata e non si può dire niente alla squadra, anche se era una partita che temevo, temevo, però guardatemi negli occhi. Siete sinceri, magari nei commenti, quanti di voi, guardando quei quattro gol che ci siamo mangiati all'inizio della partita, hanno pensato la classica partita che la palla non entra nemmeno se la butti dentro con le mani. Siete onesti, perché io l'ho pensato. Quando ho visto, nella sessazione, colpo di testa di bastoni, miracolo Jochoa. La palla finisce a Turam, praticamente a porta vuota, prende il palo. Contropiede di Barella che, non so, come sia stato possibile non fare gol in quell'azione, oltre ad avere la porta completamente aperta, poteva fare qualsiasi cosa, di piatto, provare un tiro d'esterno, passare la Turam. Riesce, incredibilmente, a prendere, a far fare un miracolo, a prendere la traversa e poi, qualche minuto dopo, palla dentro di Danfrees e Lautaro, praticamente, si incespica col pallone e non riesce a fare una volée, praticamente, sul dischetto del rigore. Ecco, ecco, ragazzi, io in quel momento ho visto un po' di streghe. Non perché l'Inter ha approcciato questa partita in una maniera feroce, feroce. Cioè, l'Inter oggi ha dimostrato che dal punto di vista mentale non ha mai, mai, mai mollato, mai. E se non, ripeto, in quelle due partite maledette, diciamo così, che sono nate male e finite peggio, col Sassuolo e col Bologna, dove abbiamo regalato dei punti. Ma, tolte quei due episodi, che chiaramente in un campionato ci possono ampiamente stare, l'Inter non ha mai sottovalutato l'impegno in campionato, mai. Anche contro una salernitana conciata veramente male, conciata veramente male, era, non dico facile il peccato di presunzione, non dico questo. Però, però, poteva veramente succedere che si approcciasse in maniera, non dico conservativa, però si potesse pensare che la partita fosse facile. Questa partita è l'Inter che la rende facile, perché oltre ai quattro gol, l'Inter se ne è mangiati altri tanti quattro, che sono quelli che ho elencato prima. Faccio un passo indietro, ho avuto veramente paura che questa fosse una partita stregata. Quindi, poi, fortunatamente abbiamo fatto due gol in due minuti e la paura è stata spazzata via. Quindi, la cosa che ci lascia questa partita, la cosa che ci lascia questa partita non è tanto il risultato che non è mai stato messo in discussione da una salernitana che, mi auguro per loro, sia stata, diciamo, una settimana un po' così. E sicuramente il fatto di aver giocato contro l'Inter, subito dopo aver cambiato allenatore, che spesso, infatti io, nelle live che ho fatto in settimana, l'avevo sottolineato come affrontare una squadra che cambia allenatore spesso e contro il producente. perché, oltre a non sapere veramente che tipo di atteggiamento avrà la squadra che tu andrà ad affrontare, tu hai preparato, come ha fatto l'Inter, guardando le partite della salernitana, un certo tipo di gara, questi cambiano allenatore e non sai cosa ti aspetta. Invece l'Inter, anche se avessero avuto in panchina Gesù Bambino, probabilmente l'Inter avrebbe fatto, anzi, senza probabilmente l'Inter avrebbe fatto esattamente la stessa partita famelica che ha fatto stasera. Perché non è soltanto il fatto di aver affrontato l'ultima in classifica che tu dici, va bene, ma cosa sarebbe dovuto succedere? No. E come tu hai affrontato l'ultima in classifica, ragazzi, è quello che ti lascia contento di questa partita. Il fatto che tu hai affrontato l'ultima in classifica come se stessi affrontando una squadra che sta lottando con te per il campionato. È la mentalità che la squadra ha in questo campionato. È questo che ti lascia contento, indipendentemente da questo risultato largo. Ripeto, l'Inter avrebbe potuto vincere questa partita 8-0, perché ha fatto 4 gol e ne ha sbagliati altrettanti. Clamorosi, eh? Clamorosi, non azioni potenziali. Gol clamorosi e sbagliati. Quindi poteva finire veramente in goleada questa partita. Quindi, quello che vedi durante la partita è quello che ti lascia veramente contento. Quando vedi Carlos Augusto, che fa l'assist per Turam, che lo scalciano, lui invece continua a correre come un treno. Oltretutto ha fatto veramente una grandissima partita a Carlos Augusto, giocatore per la quale io stravedo. Quindi, la cavalcata di Carlos Augusto, la cattivera di Lottorio Martinez, che su 2-0 va a rincorrere un difensore. L'attenzione massima che ha avuto Ciannoglu, Barella, l'attenzione che hanno avuto dietro. Ecco, l'unico che ormai ci sarà abituato. L'unico che praticamente, per fortuna nostra, non entra nella storia di questa partita, esombra, perché è inesima partita da spettatore non pagante. Quindi, la cattivera di Bastogna, anche che sul 3-0 sbaglia un passaggio, si mette le mani nei capelli come se fosse il passaggio della vita. Quindi, capite bene che non è la partita con la Salernitana, non è il 4-0 con la Salernitana che mi fa godere. È l'atteggiamento che tu hai avuto contro l'ultima in classifica che mi fa godere. E mi fa dire che questa siamo finalmente una grande squadra. Perché l'Inter era forte l'anno scorso ed era forte anche l'anno prima. Ma in molte partite ha perso punti con squadre che, diciamo, erano indubbiamente meno forti dell'Inter. Quindi, la cosa che ti lascia veramente contento della partita di stasera, pensando che poi tu martedì giochi in Champions, non è che dici, vabbè, tu poi è la settimana tipo, quindi metti dentro i titolari. No. Lui ha, inzaghi, ormai è convinto della squadra. Fa solo due cambi, diciamo tre, perché Acerbi era infortunato e quindi mette dentro De Vrij. Lui mette dentro la squadra titolare, cambiando solo gli esterni che effettivamente avevano bisogno di rifiatare. Quindi, appunto, sono caloso gusto che aveva fatto una partita clamorosa, veramente. Ha finito poi addirittura da braccetto sinistro, ma ha fatto una partita pazzesca. Veramente ha dimostrato le sue enormi qualità. Mi piace veramente tantissimo come giocatore. Anche Danfries ha fatto una buona partita, ha fatto un assist, poteva farne due, perché poi, ripeto, Lautaro nel primo tempo ha sbagliato un gol fatto, praticamente, perché si è mangiato il pallone. Quindi è questo che a noi tifosi dell'Inter ci deve far godere oggi. L'atteggiamento, la mentalità, l'essere focalizzati sull'obiettivo finale, indipendentemente dalla partita che viene dopo. Indipendentemente dalla partita che viene dopo. E questo, da, come ho detto anche questo in una live, da tifoso dell'Inter di vecchia data, che ahimè ha visto molto spesso l'Inter di lì per vincere qualcosa, e poi purtroppo per svariate motivazioni, non solo per colpa dell'Inter, sgretolarsi. La partita di oggi che io temevo tanto, temevo tanto perché veniva dopo che avevi vinto con la Roma, avevi vinto bene tutto il battaggio mediatico, l'Inter era ingiocabile, l'Inter è troppo forte, l'Inter è qui, l'Inter è là, ti arriva l'ultima in classifica e tu puoi mentalmente essere convinto di averla già vinta la partita. Invece no, invece no. L'Inter la vince sul campo la partita, la vince con la mentalità, la vince con il sapere di essere più forti, ma di metterlo in pratica, di fare quelle corse indietro che ha fatto Cerenoglu, per andare a rincorre quelle due volte che la Serenitana ha superato la metà campo. Lo vedi nella rincorsa di Lautaro, che già sul 2-0 va a presare un difensore. Lo vedi su Mkhitaryan, che corre come un pazzo per 95 minuti, per 90 minuti oggi l'abito non ha dato recupero. Lo vedi in barella, lo vedi in tutto. Ed è questo che io volevo vedere oggi. Perché tolti i cataclismi l'Inter questa partita l'avrebbe vinta, diciamo così. Però vincerla così, con questa cattiveria, con questo essere famelici, io personalmente non dico che non me l'aspettavo. Me lo auguravo, ma non ero convinto. Quindi grazie ragazzi, perché mi fate stare più tranquillo, molto più tranquillo. Signori, quindi questo è. C'è poco da dire, la Serenitana praticamente non ha mai superato la metà campo, quindi bisogna parlare solo, per quanto riguarda, solo di questo. Noi ci rivediamo martedì, saremo in live per guardare insieme Inter-Atletico Madrid. Lì sì, chiaramente avremo un avversario alla nostra altezza, quindi chiaramente sarà una partita totalmente diversa, ma quest'Inter ci arriva preparata. Quindi la vedremo insieme, poi chiaramente ci saranno i video post partita. Domani, nella giornata di domani, intorno alle 4, farò uscire le pagelle, magari in live, vediamo un po', decidiamo domani, deciderò domani se fare una live qui, o eventualmente fare un video, lo deciderò domani. Comunque se vi va, seguite chiaramente Orgoglio Bauscia su tutti i social. Io vi saluto ragazzi, vi auguro una buona notte, una buona giornata in base a quando vedrete questo video, ma prima di farlo, come sempre, forza forza, forza Inter. Grazie a tutti. Grazie.